Cari corsiste e cari corsisti, sono Graziano Cecchinato e sono docente della nostra facoltà per quanto riguarda tecnologie digitali e apprendimento in sostanza in vari corsi di laurea. Qui con voi sono chiamato a sviluppare questo insegnamento che ci vedrà tutti coinvolti nell'analisi sostanzialmente di nuovi media in relazione con l'apprendimento, in relazione con la conoscenza. Vi dico subito che non sarà il nostro un compito del tutto semplice a causa del fatto che parleremo di media e delle sue problematiche e in particolare parleremo dei nuovi media. Come sapete si tratta di una materia in continua evoluzione, si tratta di un terreno estremamente insidioso e quindi cercheremo di analizzare le potenzialità educative di questi strumenti, cercheremo di vedere come si rapportano con i nostri processi di pensiero, con l'acquisizione di conoscenza e quindi in sostanza cercheremo di trattare questi tre temi rivolgendoci in particolare alla rete internet e rivolgendoci anche a tutti i servizi che emergono in particolare sull'onda del web 2.0. Lo faremo però utilizzando questi strumenti stessi, quindi come vedrete a parte la documentazione che vi fornirò in relazione appunto agli aspetti principali del corso, sarete tutti fin da subito chiamati a partecipare, ad interagire, ad analizzare i vari siti, i vari servizi che sono presenti nella rete internet e poi ad esprimervi utilizzando questi stessi servizi. Quindi è chiaro che molta parte del corso sarà proprio come dire basata sulla vostra collaborazione, sulla vostra partecipazione, sul vostro desiderio di affrontare questi temi e di mettervi in discussione appunto con questi nuovi strumenti. Per parte mia cercherò di essere per voi una guida e mi auguro quindi di fare un buon lavoro e auguro naturalmente la stessa cosa a tutti voi.